E con l'accusa di essere un presunto pusher che un disoccupato gelese di 30 anni è stato arrestato e collocato ai domiciliari dai poliziotti del commissariato della città del Golfo. Gli investigatori sono intervenuti nel corso di un'attività di controllo antidroga durante la quale hanno perquisito l'abitazione dell'uomo che ha alle spalle alcuni precedenti. Gli agenti, nel corso della perquisizione in casa dell'indagato, hanno trovato due panetti di hashish per complessivi 194 grammi di stupefacente. Ad aggravare la situazione anche il fatto che l'uomo avesse in casa un bilancino di precisione, strumento solitamente utilizzato per preparare le dosi da smerciare. Naturalmente stupefacente e bilancino sono stati sequestrati dagli agenti. A quel punto per il trentenne indagato è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dai magistrati della procura di Gela. Misura che peraltro già gravava sul trentenne, in quanto sta scontando agli arresti in casa sua una condanna a un anno e quattro mesi per un caso di falsa testimonianza. Adesso la nuova accusa di spaccio da cui dovrà difendersi.